Vogliamo mostrare quali guarigioni e aiuti possono avvenire qui grazie alla forza spirituale. Qui nel circolo degli amici di Bruno Gröning sono diventato libero. Ho ricevuto la guarigione dopo 16 anni di dipendenza da alcol e ora sono libero da 20 anni. Buongiorno, siamo i coniugi Hagen e siamo qui al convegno a Geseke dei più bisognosi del 2019. Il compito per i più bisognosi è un ambito che nel circolo degli amici di Bruno Gröning occupa da quasi 20 anni un ruolo molto particolare. Siamo circa 4.000 amici che con molta compassione e amore aiutano persone diventate dipendenti e che si trovano in situazioni problematiche da cui non riescono a liberarsi. Dipendenza da alcol e da droga. Ogni forma di dipendenza, disturbi dell'alimentazione e tutto ciò che potete immaginarvi. Si liberano persone che nel mondo non trovavano più aiuto, da medici, psicologi, farmaci, terapie. Sono da 25 anni nel campo delle dipendenze e so di cosa parlo. Oggi vi presentiamo delle persone che attraverso questa forza spirituale si sono liberate. Mi chiamo Ulrich Hössel, qui nel circolo degli amici di Bruno Gröning sono diventato libero. Ho ricevuto la guarigione dopo 16 anni di alcolismo e da 20 anni sono libero. Mi chiamo Mariana Hössel, grazie all'assorbimento della forza guaritrice qui sono guarita da una dipendenza decennale da sigarette e da 15 anni ne sono completamente libera. Ciao, mi chiamo Martina Nezolt. Ho fumato dall'età di 14 anni e adesso sono libera dalle sigarette. Per 30 anni ho fumato dalle 20 alle 40 sigarette al giorno, tutto sparito senza sintomi di astinenza. Sono Cristian Gostiscia dalla Slovenia e dal 2006 sono nel circolo degli amici di Bruno Gröning. Per 20 anni ho avuto una dipendenza dall'alcol, per 16 anni dalla nicotina, insieme a problemi cardiaci, attacchi di panico e paure. Sono ritornato libero. Sono Alexander dalla Slovenia. Ero dipendente da droghe pesanti come il metadone. Grazie all'aiuto di Bruno Gröning sono libero da 3 anni. Mi chiamo Massey Nesler. Per oltre un decennio sono stato dipendente dall'alcol. Grazie all'insegnamento di Bruno Gröning da 14 anni sono completamente libero da questa dipendenza. Buongiorno, mi chiamo Romana Awa. Grazie all'insegnamento di Bruno Gröning sono libera da 10 anni, da una dipendenza ventennale dall'alcol. Buongiorno, mi chiamo Patrick. Sono passati 10 anni da quando, grazie all'insegnamento di Bruno Gröning, sono guarito da una dipendenza dall'alcol durata 35 anni. Grazie. Mi chiamo Ivan Jozic e vengo dalla Croazia. Dal 2010 sono nel circolo degli amici di Bruno Gröning. Sono libero da 4 anni dal consumo di marijuana. Ciao, mi chiamo Rosa e per 4 anni sono stata dipendente dai farmaci. Ora sono libera da più di 11 anni. Ciao, mi chiamo Anne Missal. Nel 2007, nel circolo degli amici, ho ricevuto più guarigioni da diverse dipendenze. Ero dipendente da sigarette, farmaci neurolettici, antidepressivi e da sonniferi. Prendevo anche un antireumatico, tutte cose di cui non ho più bisogno. Grazie. Sono Annette e grazie all'insegnamento di Bruno Gröning sono libera da 25 anni di depressione e 17 anni di consumo di hashish. Mi chiamo Samuel Martin. Ho assunto al codice per 30 anni. Sono arrivato al circolo degli amici. Qui mi sono liberato e ora sto da 14 anni nel circolo. Grazie. Ciao, mi chiamo Fabien e dal 2009 sono nel circolo degli amici. Per 40 anni sono stata affetta da sindrome di accumulo compulsivo. Grazie. 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 Grazie.